Federica Panicucci è naturale? Il cambiamento negli anni? Federica Panicucci è molto amata e apprezzata nella televisione italiana. I telespettatori possono vederla tutti i giorni grazie al suo ruolo di conduttrice a mattino 5, e talvolta si parla di lei anche per altre motivazioni. Stavolta, è proprio questo il caso. Infatti circolano molte foto di Federica Panicucci sul web, che confrontano il prima e il dopo, ipotizzando interventi di chirurgia estetica. Nelle immagini, infatti, si vedono dei cambiamenti nella Panicucci che riguardano in particolar modo le labbra e il naso. Anche Striscia la notizia ha mostrato, in passato, le differenze nel volto della conduttrice nel corso degli anni. Innanzitutto sembra che la Panicucci si sia sottoposta a dei ritocchini al naso, che sembra essersi levigato e sembra di dimensioni più piccole. Anche le labbra in passato erano più sottili ed infatti molti sostengono che la conduttrice possa essersi sottoposta a un filler alle labbra per migliorarne l'aspetto. Infine in molti ritengono che anche il viso sia differente, essendo molto liscio anche rispetto al passato. Quindi la Panicucci potrebbe essersi davvero sottoposta a qualche ritocchino, anche se però non risultano esserci stati grandi cambiamento o interventi chirurgici molto importanti. Le voci sui ritocchini a cui si sarebbe sottoposta Federica Panicucci circolano ormai da diverso tempo. Lei però non ha mai confermato queste notizie ma, al contrario, le ha smentite nel corso di alcune interviste. Parlando di chirurgia estetica infatti ha dichiarato di non essersi mai sottoposta a nessun intervento né tantomeno alle punturine. La conduttrice però ha precisato di non essere contraria alla chirurgia estetica, ma che si tratta di una scelta personale. Per quanto riguarda il suo aspetto, la Panicucci ha dichiarato che si tratta dell'effetto dell'attività fisica che svolge e dell'attività per la sua salute in generale. Infatti ha un approccio salutista, non mangia fritti, dolci, alcol e affettati. Solo occasionalmente si concede degli sgarri e mangia quello che le piace di più. Come aveva dichiarato lei stessa, anche la pizza non fa parte della sua dieta e non se la concede tutte le settimane come fanno molte persone. Si tratta soltanto di un qualcosa di sporadico. È per questo, secondo quanto spiegato da lei, che al momento è molto in forma ed ha anche un aspetto più giovanile. Non ci sarebbe però la chirurgia estetica dietro tutto questo. Voi che cosa ne pensate? Avete visto le foto del passato della Panicucci e secondo voi è rifatta? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.